congiuntivite nella bambina di un anno noi la teniamo a casa perché la congiuntivite è veramente lo dico in maniera proprio sincera una rottura di scatole se il bambino ha la congiuntivite tenetela a casa perché è contagiosa la trattiamo con il tobral eccolo qua non frizza però a lei non piace via partiamo mettere il collino è molto difficile ce la posso fare lei chiaramente non è molto collaborante vediamo se riusciamo a mettere amore 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 allora una vediamo se è andata a segno sicuramente sì questa è andata a segno e questa è andata a segno le goccine entrano l'importante è che lei non si tocchi e infatti sono qui pronta da reggerla gemmina apri gli occhini è contenta ecco aperto gli occhi per una frazione di secondo è già sufficiente gli aperti oh brava amore brava 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 è già sufficiente anche ciao